È stato incastrato il ladro di trattori, autore dei furti in alcune aziende agricole del Passo Molise. È un uomo della provincia di Foggia che dovrà rispondere dei reati di ricettazione e riciclaggio di mezzi agricoli. È finito in carcere secondo l'ordinanza cautelare emessa dall'autorità giudiziaria ed eseguita dai carabinieri di Larino, che coordinati dalla procura di Foggia hanno svolto l'attività investigativa. Tutto è cominciato lo scorso maggio con i furti commessi nelle aziende basso molisane e subito denunciati dai proprietari che hanno allertato il 112. Nel giro di pochi mesi, a dicembre, gli uomini dell'arma hanno ritrovato proprio i trattori rubati all'interno di una proprietà privata. Restituiti mezzi agricoli e proprietari, l'arma è riuscita a individuare anche il ladro, un trentenne già noto alle forze dell'ordine ed originario della provincia di Foggia, considerato anche responsabile del furto di un furgone intestato ad un comune della provincia di Chieti. È stato inferto un duro colpo alla criminalità, sottolinano dall'arma. L'attività investigativa, aggiungono dal comando provinciale carabinieri di Campobasso, assume un'ulteriore importanza, soprattutto in considerazione, della valenza che il comparto agricolo ha nell'intero Molise. Ed è dunque fondamentale sia la sicurezza e la salvaguardia dell'intero settore, altresì importante la sinergia tra cittadino ed istituzioni.